In seconda, penalizzati di 20 metri, prima fila per Brioban, Canarino, Jet, Coco Jumbo, ADV, Chantal, FB, CSI, LJ. Seconda per Ulstar, Regain, Beverly Star, Rumvero, HBD e Bounty Rock. Si va per il secondo tentativo. Convalidata con Cebreno degli Dezio, Salvio Getta alle prese. Cebreno insiste su Zio, Salvio. Poi Emezzincaff a largo, parte bene Apocalipto, 200 iniziali in 15. Cebreno agisce al comando, allunga decisamente nella prima parte di gara. Emezzincaff interviene. Primo quarto ultimato in 29,7 Emezzincaff va a rilevare al comando Cebreno degli Dei. Terza posizione per Zio, Salvio Getta a precedere Capitol SM Apocalipto. Hanno sbagliato in tanti, 44 e mezzo di 600. Adesso può gestire Emezzincaff. Si fa notare per linee esterne Chantal FB nella cui scia si pone Apocalipto. Chantal FB a larghe folate e arriva sui primi. E così Emezzincaff accelera. Primi mille metri ultimati in 1,15 e spiccioli da start a start. All'imbocco della penultima piegata Emezzincaff controlla Chantal. Poi Cebreno lungo i paletti copletto da Apocalipto. A precedere Zio, Salvio Getta con ai lati Ciccio Par. Poi Anthony Leone e Capitol SM. Curva comoda in 15 e mezzo. Non allunga ancora Emezzincaff. Si è adeguata ai suoi fianchi Chantal. Un 14,4 di ultima frazione. Emezzincaff controlla Chantal a largo. E Cebreno nella sua scia. Muove in terza ruota Apocalipto. In anticipo su Anthony Leone. 14,4 ancora 1,59 e mezzo. Il miglio con Emezzincaff che scappa. Si libera Cebreno degli Dei. Interviene Apocalipto. Retta d'arrivo. Emezzincaff prova lo stacco. Ma Cebreno è incisivo. Lo stesso Apocalipto a largo. Cebreno, Emezzincaff e Apocalipto. Peggiora di meccanica Apocalipto. Riesce a tenerlo di trotto. Maisto ci riprova su Cebreno. Cebreno in vantaggio. Apocalipto secondo. Per il terzo Zio, Salvio Getta. Per il quarto resiste Emezzincaff. E per il quinto potrebbe essere un vero HBD. Andiamo a rivedere. Bel successo di Cebreno degli Dei. Assunto l'iniziativa. Dato strada ad Emezzincaff e ne ha raccolto i cocci. in retta d'arrivo alla grande Cebreno degli Dei. Apocalipto secondo. Nonostante un'incertezza. I 150 conclusivi. Che ha costretto il suo interprete. Ad assecondarlo. Quindi 3,8,2 per l'Atris. Con Zio, Salvio Getta. Terzo. 3,8,2,5 per il quartè. Con Emezzincaff al quarto. 3,8,2,5. 18 per il quinte. Sì, almeno per l'arrivo provvisorio è tutto confermato. Successo dice Breno degli Dei. Il portacolori della Gigafarm. Cara Luigi Farina. I fratelli d'Alessandro al training. Vincenzo d'Alessandro Junior. Alle Redini Lunghe. E tutto da Gnano. Arrivederci alla prossima giornata di corse. Che si terrà domenica 21 maggio. Grazie. 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 Grazie a tutti.